Associati Olivicoltori ben ritrovati al numero 28 del periodico 12 luglio 2024. Nei nostri olivetti abbiamo raggiunto quella fase fenologica in cui all'interno delle olive il nocciolo da erbaceo si sta gradualmente lignificando. È un momento importante per la pianta dell'olivo perché deve sopportare e questa attività di deposito di lignina nelle cellule del nocciolo deve sopportare anche lo sviluppo di nuovi germogli e in questa fase qui abbiamo anche la pre-induzione fiorale. Un impegno energetico pertanto importante per l'olivo. Come dobbiamo comportarci? Se non abbiamo completato le fertilizzazioni il mese di luglio è proprio adatto per andare a completarle. Cosa portare? L'azoto, il fosforo, il potassio, i microelementi. Vanno molto bene anche i corroboranti. A base di cosa? A base di alghe, a base di glicina e betaina, distillato di legno proprio per aiutare la pianta in questo momento qui a superare un esborso energetico notevole. Serve per questa pre-induzione fiorale proprio per equilibrare la futura prossima per il 2025 produzione di olive in modo di avere tante gemme che vanno a legno e tante gemme che vanno a fiore. Una capacità agronomica quindi che abbiamo a disposizione. Nel periodico abbiamo approfondito questo aspetto, perciò una lettura interessante. In alcuni olivetti si è presentata nuovamente la cascola delle olive. Si può considerare normale quando abbiamo una caduta delle druppe dal 10 al 15%. Dopo bisogna considerarla un po' come una patologia e andare a valutare le cause. Perché in alcuni olivetti oramai stiamo osservando cadute di olive che superano il 50-60%. E in questi casi qui cosa troviamo? Troviamo delle patologie e fungine. Troviamo l'azione della cimice asiatica. Troviamo anche degli ingialimenti e delle cadute di olive perché non è stato fecondato l'ovario. Perciò olive partenocarpiche. Una tensione pertanto ad andare a valutare correttamente se si tratta di cascola fisiologica o se c'è una patologia in atto in modo da attuare tutte quelle azioni di contrasto ai parassiti, fungini o animali in modo da mantenere sano l'oliveto. Come tecnici siamo a disposizione. La difesa fitosanitaria. Iniziamo dalla mosca delle olive perché le druppe sono oramai recettive ed è facile che ci siano delle ovi deposizioni. Non abbiamo ancora raggiunto per la maggior parte degli olivetti quelle soglie di intervento che se superate diventa importante utilizzare insetticidi. Possiamo però agire in questo momento qui utilizzando degli antideponenti. Che cosa? Le polveri di roccia. Bentoniti, caolini. Se andiamo a usufruirne è bene unire dei baianti e degli adesivanti che rimangono così ben appiccicate sulle foglie e sulle olive. funzionano sia contro la mosca dell'olivo ma ricordiamoci che hanno anche quella funzione di andare ad aiutare la pianta a superare gli stress da caldo proprio perché vanno a coprire, a limitare l'effetto dei raggi del sole sopra la vegetazione e in questo modo regolano anche l'evapo traspirazione. Bene per chi utilizza le trappole per la cattura massale se hanno già effettuato la posa negli olivetti altrimenti in questa settimana devono sbrigarsi ad andarle ad appenderle. Mi raccomando che siano poste a un metro e mezzo a metà chioma che siano esposte verso sud, una trappola ogni altra pianta, nelle parti perimetrali sarebbe più opportuno una trappola ogni pianta. margaronia. In alcuni olivetti abbiamo trovato la presenza di questo lipidotero sia su giovani pianti ma anche su piante vecchie. Ricordiamoci che questo insetto provoca notevoli danni non solo alla vegetazione, agli apici vegetativi molto teneri ma possono attaccare anche le olive. Nel caso come si può intervenire? Utilizzando del bacillus thuringiensis magari con due applicazioni avendo l'accortezza di eseguire tutte le operazioni indicate in etichetta. abbiamo poi il problema della cimice asiatica e in questo momento qui si sta diffondendo negli olivetti perciò chi ha la necessità di eseguire un trattamento fitosanitario utilizzi la delta metrina che è utile anche per contrastare la popolazione della mosca e anche quella della margaronia. Parassiti fungini. Sempre la presenza dell'occhio di pavone perciò chi non ha effettuato un intervento fitosanitario può eseguirlo sempre in caso di necessità utilizzando che cosa? prodotti rameici più zolfo. Ricordiamoci che lo zolfo ha un'azione repellente anche nei confronti della cimice asiatica. Siamo entrati in un periodo che può andare bene come antifungini a utilizzare il bicarbonato di potassio. È meno efficace dei prodotti rameici però ha una buona azione nei confronti di parassiti fungini perché va ad alterare il pH delle foglie portandolo verso il basico e questi parassiti fungini per svilupparsi invece hanno bisogno di un pH leggermente acido perciò una funzione anche da agricoltura biologica. E adesso nel ringraziarvi per l'ascolto un buon risentirci alla settimana prossima raccomandandovi sempre l'allerta alla mosca delle olive da qui alla fine del mese di ottobre.